Il 2023 si conferma anno da bollino rosso per il clima. In Italia ben 378 eventi meteorologici estremi, segnando più 22% rispetto alla 2022, con danni miliardari ai territori e la morte di 31 persone. In aumento alluvioni, frane, mareggiate, grandinate e temperature eccezionali in città, ma non solo, con lo zero termico sulle Alpi, che ha raggiunto quota 5.328 metri. Silvia Tauro, Presidente, Lega Ambiente Abruzzo. Quali gli effetti sull'Abruzzo? Gli effetti sull'Abruzzo, come abbiamo visto, sicuramente gli eventi meteorologici estremi tra maggio e giugno e ancora novembre, che addirittura sono riusciti a causare la caduta della parete della galleria tra Francavilla e Pescara. Ancora però caldo record, come quello che ha toccato non solo quindi durante la stagione estiva, ma ancora in autunno e in inverno anche le nostre latitudini, con ripercussioni quindi non solo ad esempio sul sistema dell'agricoltura, ma lo vedremo a breve poi nella prossima stagione anche su quella che è l'economia della montagna. Dunque, impatto dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture, ripercussioni sul settore agricolo, ridotte in modo significativo le risorse dedicate alla prevenzione. C'è stato un taglio. Vogliamo specificare in che termini? Fondi del PNRR che già erano da considerarsi esigui con i 2,5 miliardi destinati quindi all'istessere geologico e che con il miliardo e due destinato attualmente invece diventano assolutamente quindi inadeguati. Interventi quindi che devono andare nella direzione invece della realizzazione di un vero piano di adattamento climatico del nostro paese e che abbia soprattutto i fondi per essere realizzato. Diciamo che mancano le risorse dedicate in questo momento alla prevenzione, no? Mancano le risorse dedicate alla prevenzione e questo quindi è soprattutto da considerare quando invece realizziamo quanto destiniamo alle emergenze. Fondi che pur essendo quindi ogni anno più cospicui assolutamente non riescono a dare una soluzione concreta al problema se non per quanto riguarda risarcimenti ed interventi estemporanei ed assolutamente inutili. Abbiamo detto in generale effetti sulle infrastrutture, sul comparto agricolo, effetti anche sulla salute delle persone. Effetti sulla salute delle persone, sulla sicurezza delle persone, sui beni delle persone perché ricordiamo quindi che questi eventi colpiscono all'improvviso, spesso lasciano i cittadini senza quindi le loro abitazioni complicando le condizioni lavorative non solo nei comparti agricoli ma anche nei distretti industriali.